Allora, cominciamo a parlare di transistor, che è un dispositivo principale che utilizzeremo. Il transistor come concetto di dispositivo è stato inventato nel 1948 ed è originato dalla contrazione di transfer resistor, cioè di transresistenza, perché in sostanza nel modo in cui era utilizzato inizialmente si otteneva una tensione in uscita in risposta a una corrente posta in ingresso. Noi cerchiamo di vederlo in modo leggermente diverso, si tratta di dispositivi a tre terminali, che si comportano come generatori di corrente controllati. E' controllati tipicamente da un terzo terminale, di fatto la corrente tra due terminali è controllata da un terzo terminale e il terzo terminale può controllare questa corrente attraverso la tensione o attraverso una corrente. Quindi ci sono generatori di corrente controllati dalla tensione sul terzo terminale, oppure dalla corrente nel terzo terminale. il terzo terminale, in questo caso è il cosiddetto terminale di controllo. Allora, il primo caso corrisponde a quelli che si chiamano transistori effetto di campo. il motivo è che la tensione indotta sul terzo terminale causa un campo elettrico dentro il dispositivo che effettivamente consente il controllo della tensione. Quindi attraverso il campo elettrico che avviene il controllo della tensione e gli altri dispositivi, quelli che si comportano come generatori di corrente controllato da corrente, si chiamano transistori bipolari. La famiglia di transistori bipolari è più facilmente vista come un tipo di transistori in cui è la corrente nel terzo terminale che controlla la corrente tra gli altri due. Allora, adesso cerchiamo di capire, prima di tutto, perché fa comodo avere un generatore di corrente controllato da corrente. Questo a voi dovrebbe venire abbastanza facile, perché vi ricordate tutte le volte che abbiamo schematizzato un amplificatore, in uscita mettevamo un generatore equivalente ai temi di Norton, nel circuito equivalente, per esempio in un generatore di Norton avevamo un generatore di corrente controllato dalla tensione di ingresso, la porta, in parallelo a una resistenza. Quindi a che cosa serve un generatore di corrente controllato da qualcos'altro è abbastanza chiaro, perché poi è qualcosa che a livello di circuito equivalente abbiamo utilizzato un sacco di volte negli amplificatori. Allora, partiamo dal vedere il secondo caso, il generatore di corrente controllato da corrente. Vediamo abbastanza rapidamente a che cosa può servire. Allora, immaginate che ci siano tre terminali e io abbia che la corrente tra i terminali 2 e 3 sia uguale alla corrente nel primo terminale, all'ingresso del primo terminale, moltiplicata per A. Quindi questo è il generatore di corrente. Io posso aggiungere una maglia in ingresso che impone la tensione e la maglia in ingresso che impone la corrente nel primo terminale e poi una maglia in uscita che usa la corrente nel secondo terminale. Per esempio così. Metto un generatore di ingresso con una resistenza serie che impone la corrente nel primo terminale. Vedete, la corrente nella maglia è I1, questa è la maglia di ingresso e vedete Vi impone la corrente nella maglia di ingresso perché I1 è uguale a Vi diviso Array. D'accordo? e poi uso un carico per utilizzare la corrente nella maglia di uscita. Metto anche un generatore di polarizzazione, chiamiamolo Vcc. La corrente nella maglia di uscita è proprio I2 e per esempio qui posso scrivere che diciamo la corrente nel carico, innanzitutto V2 è uguale a Vcc meno RL per I2 e poi la tensione capi del carico, chiamiamola VL, è uguale a RL per I2 col segno meno. Quindi vedete, la tensione capi del carico è questa, la tensione di ingresso è questa, quindi per esempio meno RL per I2 ma I2 è uguale ad A per I1 e quindi VL è uguale a meno RL per A e quindi qua al posto di I1 posso scrivere VI diviso RI. Quindi questa qua è una amplificazione di tensione. Dipende dal valore della resistenza sul carico, dall'amplificazione di corrente e dalla resistenza di ingresso. Ovviamente io posso vedere l'amplificazione di potenza che è l'amplificazione che conta e la potenza in uscita sarà uguale a RL per I2 al quadrato, la potenza nel carico, la potenza erogata dal genitore di ingresso sarà R per I1 al quadrato e quindi l'amplificazione di potenza sarà uguale a RL diviso RI per I2 al quadrato e diviso I1 al quadrato, cioè sarà uguale a RL diviso RI per A al quadrato. Questa è l'amplificazione di potenza. Se vi ricordate è l'amplificazione di potenza che deve essere maggiore di 1 perché si possa avere un amplificatore e tipicamente è quello che si riesce ad avere con un transistor, un tratto di corrente, controllato da corrente, che amplifichi la potenza. Quindi è quello che riesco a trovare, a ottenere. Quindi l'amplificatore si fa ed è uno degli usi tipici, ma un'altra cosa che si riesce a fare è anche un uso da interruttore controllato. Vi faccio vedere cosa conviene rappresentare. Conviene disegnare le cosiddette caratteristiche di uscita e l'equazione della maglia di uscita. L'equazione della maglia di uscita ce l'abbiamo ed è questa. Consideriamo, vedete, il transistor disegnato in questo modo può essere considerato un due porte, dove in ingresso c'è I1 e V1, in questo caso è nullo per come è rappresentato, e in uscita c'è V2 e I2 dalla porta d'uscita. Guardiamo la porta d'uscita e rappresentiamo i due in funzione di V2, sia per quanto è determinato dalle caratteristiche interne, sia determinato dalla maglia di uscita, che è questa. Allora, la corrente I2 dipende da I1, quindi non sarà una curva di I2 in funzione di V2, sarà una curva in generale di I2 in funzione di V2 utilizzando I1 come parametro. Quindi esattamente questa è infatti la famiglia delle caratteristiche di uscita che si usa. Dunque, caratteristiche di uscita sono le curve I2 in funzione di V2 utilizzando I1 come parametro. Quindi si rappresentano in questo modo. Se questa è la I2, questa qui è V2, I2 sappiamo quant'è in questo caso particolare, I2 non dipende da V2, dipende soltanto da I1. Ricordate, I2 è uguale ad A per I1. Quindi se utilizzo I1 come parametro, cosa posso fare? Beh, se I1 è un certo valore, chiamiamolo I1,1 grande, I2 sarà uguale ad A I1,1. Se I1 è uguale a valore I1,2, I2 sarà uguale ad A I1,2, una retta orizzontale, indipendente da V2, chiaramente, no? Se I1 è uguale a I1,3, I2 sarà uguale ad A grande per I1,3. Poi per finire, se I1 è uguale a I1,4, A sarà uguale, I2 sarà grande ad A per I1,4. Questa è l'espressione. Quindi, quando dico caratteristiche di uscita, intendo la rappresentazione di questa famiglia di curve, I2 in funzione di V2 al variare di I1. Quindi, perché chiamo caratteristiche di uscita? Perché I2 e V2 sono corrente e tensione di uscita, e I1 è il parametro da cui dipendono. Su questo piano posso rappresentare anche l'equazione della maglia. Vi ricordate, l'ho scritto un attimo fa, l'equazione della maglia era questa, V2 uguale a VCC meno RL per I2. Questa equazione, su questo piano, è una retta, ed è quella che abbiamo sempre chiamato retta di carico. Com'è fatta questa equazione? Quando I2 è uguale a 0, V2 è uguale a VCC, quando invece V2 è uguale a 0, I2 è uguale a VCC su RL. Quindi immaginiamo che sia questo, sia così. Questa è VCC diviso RL. Allora, se siamo in questa zona, ho una certa I1 uguale per esempio a I1-2, il punto di riposo è questo, e poi al variare di I1 vario intorno al punto di riposo, e ho il comportamento d'amplificatore che abbiamo visto prima. Se varia I1, varia I2 di ragione A per I1, e poi corrispondentemente varia anche la tensione d'uscita. Insomma, però I2 mi dà già la corrente nel carico, quindi abbiamo visto se A è abbastanza grande, ho un'amplificazione di tensione e anche un'amplificazione di potenza. E va bene. Ci sono altri due casi che sono interessanti, che sono questi. Quando I1 è uguale a 0, I2 è uguale a 0, la soluzione del sistema, il punto di riposo da cosa è dato? Dall'intersezione della caratteristica con la retta di carico, perché dovremmo essere soddisfatti tutte e due le espressioni. Quindi, se I1 è uguale a 0, qui, ho che I2 è uguale a 0 e V2 è uguale a VCC. Quindi il transistore si comporta come un interruttore aperto. In uscita. si comporta come un interruttore aperto in uscita. D'accordo? Se invece I1 è uguale a I4, a I1,4 per esempio, mi trovo qui, praticamente V2 è uguale a 0. Quindi se I1 è uguale a 0, I2 è uguale a 0. Quindi si comporta come un interruttore aperto. Se I1 è uguale a un certo valore I1,4, allora è V2 che è praticamente uguale a 0. E quindi vuol dire che si comporta in uscita come un interruttore chiuso. Tra il terminale 2 e 3 è come se avessi un interruttore chiuso. Nel primo caso è come se avessi un interruttore aperto. Quindi ho il comportamento da interruttore controllato dalla corrente I1. Questo tipo di comportamento è quello che si usa nella logica digitale. Tipicamente nella logica digitale uso il transistor come interruttori controllati. Quindi il comportamento del generatore corrente controllato dal terminale d'ingresso può essere trasformato scegliendo opportunamente i valori in un interruttore controllato dal terminale d'ingresso. In questo caso la porta d'uscita si comporta come un interruttore aperto e chiuso a seconda della corrente che è inserito. Quindi posso avere sia il comportamento da amplificatore che è quello che ho qui sia il comportamento da interruttore controllato che vuol dire lavorando ai o estremi all'intercetto con gli assi orizzontale e verticale. Allora, adesso noi, beh direi che conviene fare così, dovremo vedere il primo tipo di transistori basati sul funzionamento del generatore di corrente controllato da corrente. che sono i transistori bipolari, però direi che a questo punto ci conviene cominciarne a parlare la prossima volta. Sì, magari ecco, invece posso usare un attimo il tempo che ho per completare il discorso, ecco, questo mi conviene farlo sull'altro tipo di generatore, un generatore di corrente controllato da attenzione. Questo ce la faccio in dieci minuti. Allora, il comportamento dei generatori di corrente controllato da attenzione è perfettamente analogo. è perfettamente analogo, cosa devo fare? Ho tre terminali, la corrente tra i due terminali dipende dalla tensione applicata sul primo. termine di corrente, io uso G, beh, Gm, Gm come parametro, ho la corrente I2 è uguale a una Gm per V1, dove V1 è la tensione tra il primo terminale e il terzo, che per comunità posso mettere a massa, d'accordo? Quindi questa è la relazione. Ok, allora, io cosa faccio? Esattamente come prima, esattamente come prima, qua devo mettere il generatore V con la resistenza R. vedete, in questo caso la resistenza Ray conta poco, io cosa ho? Che V1 è uguale a VI e la corrente I2 è quindi Gm, essendo Gm per V1, è uguale a Gm per VI e quindi ho una caduta di tensione VL che è uguale, la maglia d'uscita è questa qua e ho la tensione capi del carico che è uguale a meno RL per I2 e quindi è uguale a meno RL per Gm per VI quindi l'amplificazione di tensione VL su VI la tensione capi del carico rispetto alla tensione d'ingresso è uguale a meno Gm per RL vedete, in pratica anche in questo caso se Gm è abbastanza grande posso avere un'amplificazione di tensione in questo caso è abbastanza ovvio che ho anche l'amplificazione di potenza perché la potenza erogata all'ingresso è nulla non esce corrente il aggiornatore di ingresso su un modello particolarmente semplificato però io posso chiaramente ho un comportamento da amplificatore di tensione tra l'altro notate come anche nel caso precedente un amplificatore di tensione che ha una fase negativa una fase 180 gradi quindi amplifica e inverte d'accordo? il comportamento è uguale a quello di prima questo Gm come spesso viene utilizzato in quanto simpolo è una transconduttanza perché mi dice come la corrente d'uscita dipende dalla tensione sulla maglia d'ingresso sulla porta d'ingresso se vedo un'altra volta questo come un sistema a due porte alla porta d'ingresso OV1 alla porta d'uscita OV2 quindi il ragionamento è esattamente lo stesso di quello che abbiamo fatto precedentemente chiaramente lo stesso discorso vale anche se guardiamo le caratteristiche di uscita e il comportamento da interruttore controllato facciamolo per completezza se io disegno le caratteristiche di uscita stavolta saranno diverse se uso uso che cosa uso rappresentare i due in funzione di V2 e della grandezza di controllo che è la V1 ok questo uso come parametro la V1 e rappresento la corrente alla porta d'uscita in funzione della tensione sulla porta d'uscita come è fatto io so che i due è uguale a Gm per V1 quindi queste caratteristiche sono rette orizzontali che dipendono dal parametro di controllo V1 quindi di nuovo auguro che se V1 è uguale a una certa V1 1 la corrente sarà uguale a Gm per V1 1 e così via V1 uguale a V1 2 la corrente sarà costante uguale a Gm per V1 2 eccetera eccetera questo è un Gm V1 4 Gm V1 3 e poi la retta di carico di nuovo è la stessa di prima perché la maglia di uscita non è cambiata avrò che V2 è uguale a Vcc meno RL per I2 quindi la retta di carico viene vedete di nuovo come prima per esempio così passa la pendenza è meno 1 su RL passa da Vcc quando I2 è uguale a 0 e passa da per esempio questo punto che è Vcc diviso RL quando V2 è uguale a 0 e quindi di nuovo io qui ho un comportamento da interruttore aperto se V1 è uguale a 0 e quindi I2 è uguale a 0 la porta d'uscita si comporta come un interruttore aperto oppure qui c'è il comportamento è interruttore chiuso se V1 è uguale a quella quantità GE V1 4 o che V2 è uguale a 0 e quindi si comporta come un interruttore chiuso quindi interruttore controllato dalla tensione V1 dalla tensione V1 di fatto li uso nello stesso modo l'unica cosa che cambia ovviamente è qual è la grandezza di controllo se è una corrente o se è una tensione si tratta ovviamente di nella pratica si tratta un pochino di una schematizzazione perché poi la corrente che applica un ingresso sarà legata alla tensione che applica un ingresso perché nella pratica la maglia di ingresso imporrà un legame tra corrente e tensione però diciamo guardando il funzionamento interno del dispositivo è più facile esprimere il funzionamento del transistore come un controllo di corrente e un controllo di tensione va bene quindi mettiamo un punto a questa cosa oggi e e poi la procedura